Di lui si sono perse le tracce lo scorso primo novembre, da allora proseguono le ricerche di Bruno De Marinis scomparso da Spinazzola. I suoi concittadini hanno organizzato un incontro in piazza San Sebastiano per non far abbassare la tensione nelle ricerche del 68enne. Non è possibile che una persona scompaia, sparisca e qui in questo paese c'è silenzio. Dove sono le istituzioni? Dove sono? Io non lo so. Io da cittadino non so niente. Non so che cosa sta succedendo. Proseguono senza sosta a Spinazzola in tutti i comuni limitrofi le ricerche di Bruno De Marinis, il 68enne di cui si sono perse le tracce lo scorso primo novembre. Il piano di ricerca ministeriale, coordinato dal prefetto della BAT Maurizio Valiante, coinvolge numerose figure istituzionali e non solo. Sono impegnati i carabinieri del comando di Bari e di quello di Spinazzola, polizia di Stato, SER, reparto elicotteristi di Bari, vigili del fuoco con l'unità del gruppo sommozzatori di Bari, polizia locale, unità cinofili dei carabinieri forestali, dei vigili del fuoco, unità cinofila delle guardie zoofile di Puglia, unità della guardia di finanza, volontari dell'associazione Gadit di Spinazzola e volontari dell'associazione Penelope Puglia. Stanno battendo a tappeto le zone individuate dalle ricerche olfattive dal pastore tedesco Fred. Queste ricerche al momento non hanno dato purtroppo esito positivo se non tracce che poi si perdono nei pressi della strada bradanica a scorrimento veloce che unisce Foggia con Matera. La bradanica in quel punto, prima dell'innesto, incrocia la strada per Genzano di Lucania. Ma i concittadini di Bruno De Marinis non demordono e vogliono tenere alta l'attenzione per dare ancora nuovo impulso alle ricerche. E così sabato si sono ritrovati in piazza San Sebastiano a Spinazzola, frequentata da Bruno, cinque minuti di silenzio e di commozione per la sua scomparsa. La luce dei cellulari, unita al silenzio sacrale e alla preghiera personale, dicono i promotori, è stato un modo per sottolineare la vicinanza alla famiglia per la scomparsa di Bruno, colui che ha allietato i momenti di molti, con la sua splendida voce, con la sua solitaria eleganza, mai invadente, con la personalità profonda come pochi. Tutti siamo in apprensione per la sua scomparsa, dicono, e questo breve momento deve essere di auspicio e di speranza affinché Bruno sia ritrovato. La speranza non deve morire, teniamola accesa. Bruno De Marinis, 68 anni, vive da solo a Spinazzola. È una persona mite di grande cultura, molto conosciuta in paese. L'ultima volta è stato visto dal fratello il 23 ottobre scorso, quando si sono incontrati in un bar di Corso Umberto I. cammina con un'andatura leggermente claudicante.